Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Ieri mattina sono stato in giro per la città con la polizia locale per vedere come vengono fatti i controlli e pomeriggio mi sono messo in casa a guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti. Ebbene, più del 95 per cento delle persone fermate sono in regola, questa è la realtà. Per cui io mi dissocio da questa rettorica del milanese indisciplinato che si fa gli affrisuoli. Non è così. E se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro deve fare una cosa molto semplice. Facciano nuova ordinanza e tenga più persone a casa. È tutto qui.